la valutazione finale assegnata a questo articolo di super kitchen è di 9.2 voti su un totale di 10 risulta il più venduto ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono cura facile facile da pulire facile da usare leggero comodo artigianalità se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video demolli con questo articolo si è giudicato un voto finale di 8.8 su 10 risulta al momento essere il più desiderato le caratteristiche principali sono leggero robustezza ottimo rapporto qualità prezzo facile da pulire comodo trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video questo prodotto realizzato da oriamo ha conquistato una votazione di 9 su 10 punti totali per questa categoria risulta al momento essere il più votato con 762 valutazioni globali si tratta di un prodotto molto efficiente e versatile che offre prestazioni uniche se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video la votazione finale assegnata a questo prodotto di super kitchen e di 8.6 voti su 10 risulta essere la nostra scelta migliore un giudizio mediamente positivo per un articolo dalle prestazioni più che soddisfacenti si rivela essere un'ottima soluzione puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video caricin ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.6 su un totale di 10 punti è il più scontato di questa selezione le sue principali funzionalità sono leggero comodo facile da pulire in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato excelsa ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 9.4 su 10 in questa selezione risulta essere il migliore i punti di forza sono comodo leggero facile da pulire robustezza in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto aggiornato di questo prodotto